Mangiate in classe Mangiate in classe Mangiate in classe Mangi in classe Mangi in classe Mangi in classe Voi mangiate in classe. Lei mangia in classe. Ho lezione, domani. Ti aiutero, volentieri. Ti aiutero, volentieri. Ti aiutero, volentieri. Ti aiuto, volentieri. Io sono, in classe. Io sono, in classe. Hai scuola, oggi. Hai scuola, oggi. Hai scuola, oggi. A scuola, oggi. Avete scuola, oggi. Ricominciano, le lezioni. Ricominciano, le lezioni. Ricominciano, le lezioni. Ho lezione, domani. Ho lezione, domani. Ho lezione, domani. Vai, in classe. Vai, in classe. Vai, in classe. Non abbiamo, scuola, oggi. Non abbiamo, scuola, oggi. Dobbiamo, pulire, la nostra, classe. Dobbiamo, pulire, la nostra, classe. Siamo, compagni, di 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 classe. Siamo compagni di classe. Domani non c'è scuola. Domani non c'è scuola. Io non ho lezioni, oggi. Io non ho lezioni. Oggi. Io non ho lezioni. Oggi. Non c'è scuola. Oggi. Non parlare con le altre. Durante. La lezione. Non parlare. Con le altre. Durante. La lezione. Non parlare. Con gli altri. Durante. La lezione. Non parlare, con gli altri, durante, la lezione. Non parli, con le altre, durante, la lezione. Non mangiare, in classe. Non mangiare, in classe. Non mangiare, in classe. Non mangi, in classe. Non mangi, in classe. Non mangi, in classe. Le lezioni, iniziano, domani. Le lezioni, iniziano, domani. Le lezioni, iniziano, domani. Le lezioni, cominciano, domani. Le lezioni, cominciano, domani. Le lezioni, cominciano, domani. Quando finisce, la scuola. Quando finisce, la scuola. Quando finisce, la scuola. Non, hai mai, lezione, o cosa? Non avete, mai lezione, o cosa? Non avete, mai lezione, o cosa? Non avete, mai lezione, o cosa? Non, hai mai, lezione, o cosa? Non, hai mai, lezione, o cosa? Voi, non avete, mai lezione, o cosa? Voi, non avete, mai lezione, o cosa? Voi, non avete, mai lezione, o cosa? Andare, a lezione. Andare, a lezione. Andare, a lezione. Fare, lezione. Fare, lezione. Fare, lezione. Lezioni, private. Lezioni, private. Lezioni, private. La prima, lezione, della giornata, è inglese. La prima, lezione, della giornata, è inglese. La prima, lezione, della giornata, è inglese. La lezione, era sui, verbi irregolari. La lezione, era sui, verbi irregolari. La lezione, era una, lezione di, 45, minuti. Era una, lezione di, 45, minuti. In agosto, non ci sono, lezioni. La scuola, comincia, in aprile. La scuola, comincia, in aprile. Comincia, in aprile. La scuola, comincia, in aprile. La scuola, comincia, ad aprile. La scuola, comincia, ad aprile. La scuola, comincia, ad aprile. Cosa fai, dopo, la scuola? Cosa fai, dopo, la scuola? Cosa fai, dopo, la scuola? Sono, i miei compagni, di classe. Sono, i miei compagni, di classe. Sono, i miei compagni. Di classe. Io leggo tutti, i tipi, di libri. Io leggo tutti, i tipi, di libri. Io leggo tutti, i tipi, di libri. Io, ho letto, tutti i tipi, di libri. Io, ho letto, tutti i tipi, di libri. Io, ho letto, tutti i tipi, di libri. Le sue conferenze sono terribilmente noiose. Le sue lezioni sono terribilmente noiose. Le sue lezioni sono terribilmente noiose. Che tipi di armi avevano? Farò qualunque tipo di lavoro. Farò qualsiasi tipo di lavoro. Farò qualsiasi tipo di lavoro. Mi sono addormentato durante il corso. Mi sono addormentato durante il corso. Mi sono addormentato durante il corso. Lui insegna inglese. Lui insegna inglese. Lui insegna l'inglese. Lui insegna l'inglese. Che tipo di trattamento riceverò? Che tipo di trattamento riceverò? Che tipo di trattamento riceverò? Loro partecipano a ogni lezione. Loro partecipano a ogni lezione. Loro partecipano a ogni lezione. Noi mangiamo molti tipi di cibo. Noi mangiamo molti tipi di cibo. Noi mangiamo molti tipi di cibo. Quante classi ai lunedì? Quante classi ai lunedì? Quante classi ai lunedì? Quante classi ai lunedì? Io non faccio parte della classe media. Io non faccio parte della classe media. Io non faccio parte della classe media. Si è presentato tardi a lezione. Si è presentato tardi a lezione. Si è presentato tardi a lezione. Che tipo di medicina hai preso? Che tipo di medicina hai preso? Che tipo di medicina avete preso? Quanti alunni ci sono nella tua classe? Quanti alunni ci sono nella tua classe? Salta spesso le lezioni. Lui è spesso assente da scuola. Lui è spesso assente da scuola. Non è permesso fumare in classe. Non è permesso fumare in classe. Non è permesso fumare in classe. Ci sono 27 alunni nella mia classe. Quanti ragazzi ci sono in questa classe? Quanti ragazzi ci sono in questa classe? Che tipo di musica ti piace? Che tipo di musica ti piace? Che tipo di musica le piace? Che tipo di musica le piace? Com'è stata la lezione di francese? Come è stata la lezione di francese? Come è stata la lezione di francese? Tutti sono arrivati in classe in tempo. Tutti sono arrivati in classe in tempo. Tutti sono arrivati in classe in tempo. Non parlerò mai più di nuovo in classe. Non parlerò mai più di nuovo in classe. Ci sono 40 studenti nella nostra classe. Ci sono 40 studenti nella nostra classe. È la migliore della sua classe. È la migliore della sua classe. ha fatto un corso serale di autodifesa. Ha fatto un corso serale di autodifesa. Che tipo di test è quello? Che tipo di test è quello? Che tipo di esame è quello? che tipo di esame è quello? Alcuni ragazzi sono entrati in classe. Alcuni ragazzi sono entrati in classe. Che tipo di vino consigli? Che tipo di vino consigli? Che tipo, di vino, consigliate? Non è un'aula. Non è un'aula. Non è un'aula. La nostra, scuola, comincia, alle otto. La nostra, scuola, comincia, alle otto. Abbiamo, cinque lezioni, di inglese, alla settimana. Abbiamo, cinque lezioni, di inglese, alla settimana. Abbiamo, cinque lezioni, di inglese, alla settimana. Quanti ragazzi, ci sono, in classe, tua? Quanti ragazzi, ci sono, nella, tua classe? Quanti ragazzi, ci sono, nella, tua classe? Quanti ragazzi, ci sono, nella, tua classe? Quanti ragazzi, ci sono, nella, sua classe? Quanti ragazzi, ci sono, nella, sua classe? Quanti ragazzi, ci sono, nella, sua classe? Quanti ragazzi, ci sono, nella, vostra classe? Quanti ragazzi, ci sono, nella, vostra classe? Non deve, fare rumore, in classe? Non deve, fare rumore, in classe? Non deve, fare rumore, in classe? Non dovete, fare rumore, in classe? Non dovete, fare rumore, in classe? Che tipo, di minestra, è questa? Che tipo, di minestra, è questa? Che tipo, di libri, legge Tom? Che tipo, di libri, legge Tom? Che tipo, di libri, legge Tom? Che genere, di libri, legge Tom? Che tipo, di libri, legge Tom? Che tipo, di musica, ascolta Tom? Che genere, di musica, ascolta Tom? Che genere, di musica, ascolta Tom? Che genere, di musica, ascolta Tom? Che tipo, di computer, usa Tom? Che tipo, di computer, usa Tom? Che tipo di computer usa Tom? Che tipo di computer utilizza Tom? Abbiamo giocato a tanti tipi giochi. Abbiamo giocato a tanti tipi giochi. Abbiamo giocato a tanti tipi giochi. Ha preso appunti durante la lezione. Ha preso appunti durante la lezione. Ha preso appunti durante la lezione. Prese appunti durante la lezione. Prese appunti durante la lezione. Prese appunti durante la lezione. Vorrei che in classe nostra ci fosse l'aria condizionata. Vorrei che in classe nostra ci fosse l'aria condizionata. Sì, è addormentato. Sì, è addormentato. In classe. Sì, addormento. In classe. Sì, addormento. In classe. Sì, addormento. In classe. Nella nostra classe ci sono in totale 200 studenti. Nella nostra classe ci sono in totale 200 studenti. C'erano pochi studenti rimasti in classe. C'erano pochi studenti rimasti in classe. C'erano pochi studenti rimasti in classe. Non è permesso dormire in classe. Non è permesso dormire in classe. Non è permesso dormire in classe. Arriva spesso, tardi, a lezione. Arriva spesso, tardi, a lezione. Arriva spesso, tardi, a lezione. A che ora finisce il tuo corso? A che ora finisce il tuo corso? A che ora finisce il tuo corso? A che ora finisce la lezione? A che ora finisce la lezione? A che ora finisce la lezione? Parliamone dopo la scuola. Parliamone dopo la scuola. Non sono quel genere di persona. Non sono quel genere di persona. Non sono quel genere di persona. Mi piacciono davvero i miei compagni di squadra. Mi piacciono davvero i miei compagni di squadra. È argentino ed ha lezioni di tennis. È argentino ed ha lezioni di tennis. Questa classe è composta da 40 alunni. Questa classe è composta da 40 alunni. La classe è stata divisa in quattro gruppi. La classe è stata divisa in quattro gruppi. Non essere ancora in ritardo a scuola. Non essere ancora in ritardo a scuola. Non essere ancora in ritardo a scuola. Le lezioni, iniziano, martedì, prossimo. Le lezioni, iniziano, martedì, prossimo. Le lezioni, iniziano, martedì, prossimo. Perché te, ne sei, andato, dalla lezione, ieri. 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 Non, so che tipo, di persona, sia. Non, so che tipo, di persona, sia. È il primo, della classe. È il primo, della classe. È il primo, della classe. Non posso fare questa vita. Non posso vivere in questo modo. Io non posso vivere quel tipo di vita. Abbiamo 5 lezioni di inglese alla settimana. Abbiamo 5 lezioni di inglese alla settimana. Sì, con gioia. Sì, con piacere. Sì, con piacere. Nessuno pensa, però tutti hanno le proprie opinioni. Ma tu cosa ne pensi di questo nuovo album? Ma tu cosa ne pensi di questo nuovo album? Trovo le sue opinioni strane ma interessanti. Non vuole che vada ma io intendo farlo. Non vuole che vada ma io intendo farlo. Pensa di sapere quanto guadagna. Mi farà piacere venire. Mi farà piacere venire. Mi farà piacere venire. Vi aiutero volentieri. Vi aiutero volentieri. Vi aiutero volentieri. Ti piace con la maionese. Ti piace con la maionese. Vi piace con la maionese. Ti accompagnerò con piacere. Ti accompagnerò con piacere. Io vorrei uscire con lei. Io vorrei uscire con lei. Io vorrei uscire con lei. Ti va di mangiare con noi. Ti va di mangiare con noi. Ti va di mangiare con noi. Vorresti giocare con noi. Vorresti giocare con noi. Vorreste giocare con noi. Vorreste giocare con noi. Vorrei parlare con John. Vorrei parlare con John. Mi piacerebbe parlare con John. Mi piacerebbe parlare con John. Mi piacerebbe parlare con John. Mi è piaciuto parlare con Antonio. Mi è piaciuto parlare con Antonio. Mi piace fare colazione con te. Mi piace fare colazione con te. Mi piace fare colazione con lei. 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 La tua offerta. Mi piace stare con Tom. Mi piace stare con Tom. Mi piace parlare con lui. Mi piace parlare con lui. Mi piace parlare con lui. A me piace parlare con lui. Vorresti parlare con un avvocato. Vorresti parlare con un avvocato. Vorresti parlare con un avvocato. Mi piace giocare con le parole. Mi piace giocare con le parole. Mi piace giocare con le parole. A me piace giocare con le parole. A me piace giocare con le parole. A me piace giocare con le parole. Mi piace la pizza con il formaggio. Mi piace la pizza con il formaggio. Mi piace giocare con le parole. 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 di credito. Mi piace giocare con le parole. Mi piace giocare con le parole. Mi piace giocare con le parole. mi piace. Cosa, intendi dire, conon, mi piace? Vorrei, condividere, il mio, segreto, con te. Vorrei, condividere, il mio, segreto, con te. Vorrei, condividere, il mio, segreto, con te. Noi vorremmo, una camera, doppia, con il bagno. Noi vorremmo, una camera, doppia, con il bagno. Noi vorremmo, una camera, doppia, con il bagno. Vorresti venire, al lago, con noi. Vorresti venire, al lago, con noi. Vorresti venire, al lago, con noi. Vorreste 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 venire, al lago, con noi. Mi piace, decorare, la mia, stanza, con dei fiori. Mi piace, decorare, la mia, stanza, con dei fiori. Mi piace, decorare, la mia, stanza, con dei fiori. Vorresti venire, a pescare, con noi. Vorreste venire, a pescare, con noi. Vorreste venire, a pescare, con noi. Vorreste venire, a pescare, con noi. No, mi piace, studiare, con questo, caldo. A me, non piace, studiare, con questo, caldo. Con questo, caldo. Gli piace, il pane, col burro. Gli piace, il pane, col burro. Gli piace, il pane, col burro. Mi piacerebbe, parlare, con uno, dei vostri, invitati. Mi piacerebbe, parlare, con uno, dei vostri, invitati. Mi piacerebbe, parlare, con uno, dei vostri, invitati. A mia, figlia, piace giocare, con le bambole. A mia, figlia, piace giocare, con le bambole. A mia, figlia, piace giocare, con le bambole. Questo, vorrei pagarlo, con la mia, carta visa. Questo, vorrei pagarlo, con la mia, carta visa. Sarebbe, venuta, volentieri, ma era, in vacanza. Mi piacere, giocare, a tennis, con te, un giorno. Mi piacere, giocare, a tennis, con te, un giorno. Vorrei, giocare, a tennis, con te, un giorno. Vorrei, giocare, a tennis, con te, un giorno. Mi piacciono, le ali di, poli. Mi piacciono, le ali di, pollo, con la salsa, barbecuè. Mi piacciono, le ali di, pollo, con la salsa, barbecuè. In altre, parole, non mi piace, lavorare, con lui. In altre, parole, non mi piace, lavorare, con lui. Io cucino però non lo, faccio, con molto, piacere. Io cucino però non lo, faccio, con molto, piacere. Io cucino però non lo, faccio, con molto, piacere. Le piacerebbe, cenare, con noi, il fine, settimana. Le piacerebbe, cenare, con noi, il fine, settimana. Le piacerebbe, cenare, con noi, il fine, settimana. Alle donne, piacciono, gli uomini, coi baffi. Alle donne, piacciono, gli uomini, coi baffi. Alle donne, piacciono, gli uomini, coi baffi. Vorrei, venire, con voi, ma sono, senza soldi. Vorrei, venire, con voi, ma sono, senza soldi. Vorrei, venire, con voi, ma sono, senza soldi. Come, prendi, il caffè con o senza, zucchero. Come, prendi, il caffè con o senza, zucchero. Come, prendi, il caffè con o senza, zucchero. Mi piace, lavarmi, i denti, con questo, dentifricio. Mi piace, lavarmi, i denti, con questo, dentifricio. Mi piace, lavarmi, i denti, con questo, dentifricio. Se non vi, piace, perché stavate, parlando, con lui. Se non vi, piace, perché stavate, parlando, con lui. Se non vi, piace, perché stavate, parlando, con lui. Se non vi, piace, perché stavate, parlando, con lui. Se non vi, piace, perché stavate, parlando, con lui. Se non vi, piace, perché stavate, parlando, con lui. Se non vi, piace, se non vi, piace, perché stavate, parlando, con lui. No, mi piacciono, i libri, con più di, 500, pagine. No, mi piacciono, i libri, con più di, 500, pagine. No, mi piacciono, i libri, con più di, 500, pagine. A me, non piace, parlare, con la gente, che non conosco. A me, non piace, parlare, con la gente, che non conosco. Perché sposarsi, con una donna, quando, ti piacciono, gli uomini. Perché sposarsi, con una donna, quando, ti piacciono, gli uomini. Perché sposeresti, una donna, se ti piacciono, gli uomini. Vorrei, che mi, aiutassero, con la, traduzione. Vorrei, che mi, aiutassero, con la, traduzione. Vorrei, che mi, aiutassero, con la, traduzione. Perché, con, la mia, conoscenza, dell'inglese, non riuscirò, a tradurlo, correttamente. Perché, con, la mia, conoscenza, dell'inglese, non riuscirò, a tradurlo, correttamente. Se non le, piace perché stava, parlando, con lui. Se non le, piace perché stava, parlando, con lui. Se non le, piace perché stava, parlando, con lui. Se non vi, piace, perché stavate, parlando, con lui. Se non vi, piace, perché stava, parlando, con lui. Se non ti, piace perché stava, parlando, con lui. se non ti, piace perché stavi, parlando, con lui. Se non ti, piace perché stavi, parlando, con lui. Se non ti, piace perché stavi, parlando, con lui. Grazie, per aver, portato, il vostro, computer. Grazie, per aver, portato, il vostro, computer. Grazie, per aver, portato, il tuo, computer. Grazie, per aver, portato, il tuo, computer. Grazie, per aver, portato, il suo, computer. Grazie, per aver, portato, il tuo, computer. Grazie, per aver, portato, il suo, computer. Grazie, per aver, portato, il suo, computer. Tu hai mai, assemblato, un computer, da solo? Tu hai mai, assemblato, un computer, da solo? Tu hai mai, assemblato, un computer, da solo? Lei ha mai, assemblato, un computer, da solo? Lei ha mai, assemblato, un computer, da solo? Lei ha mai, assemblato, un computer? da solo. Sembra, che il computer, sia stato, infettato, da un virus. Sembra, che il computer, sia stato, infettato, da un virus. Sembra, che il computer, sia stato, infettato, da un virus. Il mio. Computer. È vecchio. Il mio. Computer. È vecchio. Il mio. Computer. È vecchio. Il mese. Prossimo. Ne comprerò. Uno nuovo. Su internet. Il mese. Prossimo. Ne comprerò. Uno nuovo. Su internet. Il mese. Prossimo. Ne comprerò. Uno nuovo. Su internet. Hai. Un sito. Web. Hai. Un sito. Web. Hai. Un sito. Web. Avete. Un sito. Web. Avete. Un sito. Web. Avete. Un sito. Web. Avete. Un sito. Web. Voi avete. Un sito. Web. Lei ha. Un sito. Web. Lei ha. Un sito. Web. Lei ha. Un sito. Web. Ho ricaricato. La pagina. Web. Ho ricaricato. La pagina. Web. Ho ricaricato. La pagina. Web. Io ho. Ricaricato. La pagina. Web. Io ho. Ricaricato. La pagina. Web. Io ricaricai. La pagina. Web. Io ricaricai. La pagina. Web. Io ricaricai. La pagina. Web. Il sito. Web. È offline. Il sito. Web. È offline. Il sito. Web. È offline. Come. Si chiama. La tua. Pagina. Web. Come. Si chiama. La tua. Pagina. Web. Come. Si chiama. La tua. Pagina. Web. C'è un sito. Web. Chiamato. C'è un sito. Web. Chiamato. C'è un sito. Web. Chiamato. C'è un sito. Internet. Chiamato. C'è un sito. Internet. Chiamato. C'è un sito. Internet. Chiamato. No. A una pagina. Web. No. A una pagina. Web. No. A una pagina. Web. Questa. Pagina. Web non. Può essere. Visualizzata. Questa. Pagina. Web non. Può essere. Visualizzata. Questa. Pagina. Web non. Può essere. Visualizzata. La sua. Pagina web. È in Esperanto. La sua. Pagina web. È in Esperanto. Misi quelle. Foto nella. Mia pagina. Web. Misi quelle. Foto nella. Mia pagina. Web. Sto studiando. Francese. E web. Design. Sto studiando. Francese. E web. Design. Sto studiando. Francese. E web. Design. Posso. Aiutare. A tradurre. Il sito web. In altre. Lingue. Posso. Aiutare. A tradurre. Il sito web. In altre. Lingue. Ti do. Il collegamento. Al sito web. Ti do. Il collegamento. Al sito web. Ti do. Il collegamento. Al sito web. Ho creato. Una pagina. Web per parlare. Dei ragni. Della mia. Region. Ho creato. Una pagina. Web per parlare. Dei ragni. Della mia. Region. Ho creato. Una pagina. Web per parlare. Dei ragni. Della mia. Region. Più del. 90%. Delle visite. Ad una pagina. Web. Più del. 90%. Delle visite. Ad una pagina. Web. Più del. 90%. Delle visite. Ad una pagina. Web. Provengono. Da motori. Di ricerca. Provengono. Da motori. Di ricerca. Provengono. Da motori. Di ricerca. Sarebbe. Una soluzione. Perfetta. Per me. Se potesse. Visualizzare. Correttamente. Sarebbe. una soluzione. Perfetta. Per me. Se potesse. Visualizzare. Correttamente. Pagine. Web. Con contenuti. Flash. Pagine. Web. Con contenuti. Flash. Pagine. Web. Con contenuti. Flash. Come è andato. Il tuo. Colloquio. Come è andato. Il tuo. Colloquio. Come è andato. Il tuo. Colloquio. Provate. A guardarvi. Qualche. Intervista recente. Provate. A guardarvi. Qualche. Intervista recente. Provate. A guardarvi. Qualche. Intervista recente. Dopo. Pranzo daremo. Un'intervista. Dopo. Pranzo daremo. Un'intervista. Dopo. Pranzo daremo. Un'intervista. Io stasera. Ho un'intervista. Da fare. Io stasera. Ho un'intervista. Da fare. Io stasera. Ho un'intervista. Da fare. Il mio. Appuntamento. È alle due. E mezza. Il mio. Appuntamento. È alle due. E mezza. Ho fatto. Un colloquio. Di lavoro. Ho fatto. Un colloquio. Di lavoro. Ha avuto. Un colloquio. Di lavoro. Stamattina. Ha avuto. Un colloquio. Di lavoro. Stamattina. Ha avuto. Un colloquio. Di lavoro. Stamattina. Il primo. Ministro. Terra domani. Una conferenza. Stampa. Il primo. Ministro. Terra domani. Una conferenza. Stampa. Il primo. Ministro. Terra domani. Una conferenza. Stampa. Ha avuto. Un colloquio. Di lavoro. Stamattina. Ha avuto. Un colloquio. Di lavoro. Stamattina. Ha avuto. Un colloquio. Di lavoro. Stamattina. Io. Ho un colloquio. Di lavoro. Domattina. Io. Ho. Un colloquio. Di lavoro. Domattina. Io. Ho. Un colloquio. Di lavoro. Domani mattina. Io. Ho un colloquio. Di lavoro. Domani mattina. Io, ho un colloquio, di lavoro, domani mattina. L'intervista, è fissata, per le 10, di domattina.